Salve amici, oggi la mia dispensa è vuota, ma qualcosa dovrò pure portare in tavola. Vengono in questo modo, in soccorso, le uova, il gas, una padella e dell'olio. Portiamo a ebollizione l'olio, dopodiché verseremo dentro le due uova, dando così vita alle famosissime uova a occhio di bue o uova in camicia. L'olio è giunta ad ebollizione, prendiamo le due uova, facciamo così, uno, due, attenti agli occhi, versiamo in sale, quando basta, attenti se bagliacchetti e l'olio spissa. Versiamo in sale, quando basta, attenti se bagliacchetti e l'olio spissa. Abbiamo appassato la fiamma naturalmente. Fatto, sono passati due minuti e le nostre uova a occhio di bue sono pronte, belle e gustose da assaporare. Adesso l'impiatto, vi saluto e vi do appuntamento alla mia prossima facilissima ricetta. Arrivederci!